20 secondi, 20 secondi che potrebbero costare la sedia di presidente del consiglio comunale a Ugo Maggio. E' accaduto in aula dopo ore di seduta. Si stava dibattendo del project financing del futuro stadio di Avellino. La consigliera Iannuzzi reclamava il rispetto del regolamento al fine di poter presentare i propri emendamenti. Niente di che battibecchi normali durante un consiglio comunale, solo che il presidente Maggio non si è trattenuto e a microfoni aperti si è lasciato andare ad una serie di minacce contro Francesco Todisco, ex consigliere comunale e regionale politicamente vicino alla Iannuzzi. Secondo Maggio infatti dietro alle rimostranze della consigliera ci sarebbe proprio Todisco. Il video è stato pubblicato su Facebook dallo stesso Todisco accompagnato da un post in cui annuncia che procederà in tutte le sedi competenti. No, non è un dialogo tratto da Gomorra o il doppiaggio satirico di Street Fighter, ironizzato Disco, ma sono le parole del presidente del consiglio comunale di Avellino. Poi prosegue chiedendo a maggioranza e minoranza di revocare la fiducia a Maggio e sottolineando la mancanza di rispetto nei confronti della consigliera Iannuzzi, tutt'altro che manipolata. A stretto giro le scuse di Maggio, dopo molte ore di consiglio e dopo essere stato oggetto di ripetuti e durissimi attacchi, probabilmente anche a causa della stanchezza, mi sono purtroppo abbandonato ad espressioni che in nessun modo fanno parte della mia maniera di parlare, di pensare e di agire. Insomma, scuse, ma niente dimissioni, dimissioni che comunque vengono invocate a gran voce da più parti.